E' l'ora, ragazzi, ma va la Sunkemoni della Camera Biancorossa, vi troppo adesso il video pre-partita per la gara di oggi del Piacenza che andrà a Legnano contro il fanalino di coda di questo campionato, gara che si preannuncia a mio avviso da molto decisiva, oltre che per il futuro del Piacenza e soprattutto per la permanenza di Maccarone. Come discutevo anche nella scorsa partita, Big Mac è appeso al momento ad un filo, ma nonostante questo, anche a causa delle tre partite ravvicinate nel giro di una settimana, penso che l'eventuale destino del mister si deciderà dopo la gara contro il crema di domenica prossima, quindi al momento giocherà con noi ancora per altre due partite. Prima di parlare brevemente dell'analisi della partita di oggi, vi invito, se ancora non l'aveste fatto, di iscrivervi al mio secondo canale, il Piacentin Sportivo, che nasce dalle ceneri della Camera Viola. Su quel canale commenterò, oltre che le partite della Fiorentina, anche analizzerò la Serie A e la Serie B settimana per settimana, quindi sarà un video un po' più sul calcio maggiore, diciamo, a 360 gradi, quindi se ancora non l'aveste fatto vi lascio il link per iscrivervi al canale qua sotto. Riprendiamo adesso il focus del discorso, oggi partita contro Legnano le due e mezza, diretta sul canale Lilla Channel del Legnano Calcio, quindi ci sarà, per chi non potesse come me andare fisicamente a Legnano a seguire il nostro amato piace, che quest'anno ci sta facendo un po' soffrire, potrà seguire la diretta su YouTube, una gara, dicevo, che si preannuncia decisiva ma soprattutto una gara incerta perché Legnano comunque era indicato da molti come una delle possibili squadre e comunque che puntava la posizione playoff al momento è miserabilmente ultimo insieme ad altre due squadre ad otto punti, in casa non ha ancora vinto e ha sempre perso, quindi speriamo di non... Ci rido su perché mi fa un po' ridere ma è abbastanza tragico se ci pensiamo, Speriamo di non permettere a loro di fare i primi tre punti o anche solamente un pareggio perché sarebbe abbastanza demoralizzante per noi, specialmente perché davanti il caldiero va come un treno, lo sfideremo tra poco meno di tre settimane, se vogliamo rimanere agganciati quantomeno al treno delle prime 4-5 formazioni conviene vincere oggi. E' un piace che però ancora è convalescente, molti infortuni, gioco quasi inesistente, la gara contro la Palazzolo è stata veramente forse la più brutta perché contro la Karatese alla terza giornata, è vero, non avevamo... cioè avevamo fatto un primo tempo tremendo ma comunque poi nel secondo tempo avevamo abbastanza dominato la partita. Contro la Casatese qualcosina di buono avevamo fatto vedere nonostante i tre gol presi da Polli, contro la Palazzolo è stato un gioco quasi totalmente assente, cioè ci abbiamo provato con qualche incursione personale, con i neoentrati, Indoi e Castro, ma per il resto è stata una partita veramente oscena e insomma la gara di oggi contro il Legnano risulterà abbastanza decisiva. Piace ancora in emergenza infortuni, dicevo quindi giocherà Galletti in porta, con Moro che dovrebbe rientrare forse già dalla prossima partita tra i possibili convocati, in difesa Job che non sta facendo un campionato esaltante, il Capitano Silva, Del Dotto che anche lui è abbastanza così incerto, Santella che è in netto calo, Andreoli Gerbaudo che io le scorsa partita non li ho praticamente visti ed è dall'inizio del campionato che mi convincono veramente poco, specialmente Gerbaudo, davanti Ndoie, Recino ed Agostino che sono un po' le nostre, almeno Recino ed Agostino, soprattutto Bomberrecino dovrà rifarsi dopo l'ultima partita pessima, forse non era neanche in condizione, ci può stare, D'Agostino non aveva giocato malissimo, Ndoie era entrato anche abbastanza bene, quindi finalmente un'occasione di nuovo dal primo minuto per Ndoie, che insomma a me personalmente piace, piace perché comunque ha dei margini di crescita molto importanti, e perlomeno è uno alto, fisicato, che ci prova anche da lontano, speriamo che oggi possa ripetere una prestazione comunque molto positiva, quindi oggi sarà veramente fondamentale portare a casa i tre punti, un pareggio sarebbe una delusione, più che altro perché davanti corrono come pochi, una sconfitta sarebbe una cosa inaccettabile, e speriamo davvero che i ragazzi possano rifarsi, è un piace decisamente altalenante, è anche vero che anche la scorsa volta, dopo due sconfitte consecutive, abbiamo, ci siamo ripresi, abbiamo ricominciato a vincere, però ancora ci sono poche certezze in questa squadra, e parlando anche con alcune persone vicine alla società, anche la mia impressione che ho avuto, che Maccarone sia molto in confusione, e che non stia valorizzando i giovani che abbiamo, e il gioco, sebbene le premesse fossero di un gioco ultra offensivo, stiamo vedendo poco anche di quello, quindi questo è. Fatemi sapere la vostra impressione qua sotto nei commenti, mettete like, commentate, condividete il video, e domani sul mio secondo canale, cioè tra stasera e molto più probabilmente domani in giornata, vi farò il video, un video abbastanza lungo, in cui commenterò la serie A e la serie B, l'ultima giornata di campionato, quindi iscrivetevi anche al mio secondo canale, vi lascio il link qua sotto, oltre che il link della, della channel, per poter seguire la partita di oggi, un caro saluto, sempre forza piace, e che Dio ce la mandi buona, e buona festa di ogni santi a tutti.